Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento sul punto del campionato di Serie A Team Penso che ormai ci sia poco da dire in chiave scudetto in quanto la Juve ha vinto per 1-0 contro l'Empoli e nel lunch match il Napoli ha perso fuori casa contro l'Udinese per 3-1 Penso che con 6 punti di distacco tra Juve e Napoli penso che ormai la Juve possa conquistare il suo quinto scudetto consecutivo Comunque è stato un bellissimo campionato anche perché si sono date test inizialmente l'Inter e successivamente Juve e Napoli C'è stato veramente un bellissimo scontro in chiave scudetto Per quanto riguarda la Champions League chiaramente sono fuori, secondo me automaticamente sono fuori Milan e anche l'Inter che ha perso nel posticipo per 2-1 contro il Torino quindi mi sembra cosa fatta Secondo me prima Juventus, secondo Napoli, terza Roma che andrà ai preliminari per fine agosto Europa League lì è una bella bagarre anche perché ci sono Inter, Milan, Fiorentina e c'è anche questo Sassuolo qua che pian pianino vincendo nel derby contro il Carpi e contemporaneamente perdendo il Milan a Bergamo diciamo che il Sassuolo è a un punto dalla possibile Europa League Bisogna vedere se il Milan nella finale di Coppa Italia contro la Juve vincerà oppure no Se vince va direttamente lui, se perde e arriva a sesto andrà in Milan se si qualificherà a sesto oppure magari il Sassuolo perché no, magari succede come l'anno scorso con la Sampdoria sperando che comunque a differenza della Sampdoria si riescano a qualificarsi ai gironi 6 squadre su 6 3 in Champions e 3 in Europa League Per quanto riguarda la zona salvezza penso che l'Atalanta non sia infortunatamente in quella zona lì abbiamo un buon margine, sono sbaglio 6 punti quindi penso che ormai sia cosa fatta mancano quei 4-5 punti per arrivare ai fatidici 40-41 punti e quindi penso che l'anno prossimo siamo ancora al 99% stiamo ancora in Serie A Per la lotta a retrocessione Carpi, Frosinone e Palermo hanno tutte e tre perso con il Palermo ha perso con il Chievo, il Carpi, col Sassuolo, il Frosinone se sbaglio con il Genoa mentre ieri il Bologna nel Monday Night ha perso contro il Verona ultimo fornicato quindi Bologna-Verona 0-1 e il Verona va a 22 punti a meno 6 dal terzo ultimo posto quindi anche lì è una bella bagarre e complimenti comunque al Verona che comunque anche se è stato un anno disastroso comunque fino all'ultimo ci prova con quanto meno nel raggiungere questa salvezza che sembra impossibile Bene, è tutto, alla prossima!